Ciao traders, siete su Scalpin & Bull Allora, mega crollo di Bitcoin stanotte Andiamo a vedere il daily Io sono andato a letto che ho fatto il post sul gruppo Telegram che Bitcoin stava testando anche oggi la A60 Vado a letto e poi crolla Poi col cambio di candela che nelle due è addirittura andato a fare nuovi minimi E' incredibile Ok, tutto questo con un bellissimo tweet molto intelligente di Elon Musk Dove dice che è molto impensierito dal fatto che il mining di Bitcoin inquina troppo Soprattutto il mining che utilizza il carbone come energia Quindi adesso questo ragazzo, questo signore, l'ex numero uno, l'ex più ricco al mondo Ha avuto un pensiero mentre stava cenando E ha pensato di dirlo Ecco qua c'è una bella conformazione a un minuto, quindi torniamo a un minuto Qua c'è già un stop limit impostato Resistenza nel book, vediamo, un bel pezzo bello grande a 51.000 tondi Quindi qua c'è l'acquisto Comunque nel frattempo vado avanti Allora praticamente lui è così, ha qualche pensiero che il mining di Bitcoin è troppo inquinante Ok, questo non lo sapeva Andiamo a vedere il daily Quando ha comprato un miliardo e mezzo lui non lo sapeva Ok, inizio anno, questo è il gennaio qua Intorno ai 30.000 lui ha iniziato a comprare un miliardo e mezzo di dollari di Bitcoin Ma non sapeva che il mining potesse anche inquinare Su Bitcoin si sa appunto chi ce li ha, chi non ce li ha Insomma, quando lui compra o si vede che sta comprando Tutti li vanno dietro e ha fatto notizia E' andato a fare i nuovi massimi con sta roba qua Poi cosa è successo? A un certo punto Tesla esce coi dati Ok Tesla esce coi dati E prima di uscire coi dati Bitcoin crolla, chissà perché Crolla perché Ha dovuto vendere il 10% dei suoi Bitcoin Ok, in netto rialzo, in netto guadagno Ma l'ha dovuto vendere Ha incassato 101 milioni Perché è uscito con i dati Molto 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 brutti Praticamente esce coi dati dove ha un guadagno di 400 Tesla, ha un guadagno di 438 milioni Quindi ha 438 milioni di utili Ok, quindi dice Ah, ottimi dati Invece bisogna togliere I 101 milioni da vendita di Bitcoin Più i 538 dovuti al fatto che Lui ha dei crediti legati all'ambiente Ok, quindi società come Stellantis, eccetera Comprano da società che inquinano Hanno i crediti perché inquinano meno Le aziende che realizzano macchine elettriche Inquinano meno Quindi si è dovuto comprare Insomma, fatto sta 538 più 101 Fa sì che Se tu togli queste due cose qua Tesla sia nettamente in perdita Quindi Tesla per quanto riguarda La vendita di auto è in perdita Ok, quindi è arrivata la concorrenza E amen Quindi per far finta che sia ancora in positivo Ha dovuto fare questo Ha dovuto aggiungere Le vendite di Bitcoin Ok Cosa succede? Che innanzitutto adesso le auto Anche Stellantis ha deciso Di non comprare più i crediti di Tesla Perché ormai ce la fa per i fatti suoi Quindi quella roba lì sta finendo Ma soprattutto Quando lui ha iniziato a vendere Ovviamente si sa dove Bitcoin è tutto trasparente Si vede dove ci sono i soldi Quando lui inizia a vendere Con 101 milioni non fa questa roba qua Però quando hanno iniziato a vedere Che quel portafoglio ha iniziato a vendere Vendono anche tutti gli altri Come qua Quando si è visto che Un portafoglio si stava ingrandendo Di un miliardo e mezzo Ha iniziato a comprare Poi è uscito la notizia E ha fatto fare il boom Ha fatto andare sui massimi Al contrario Quando inizia a vendere Ok Quindi Si è visto il portafoglio svuotarsi Tutti gli sono andati dietro E hanno andato a fare questi nuovi minimi Poi è tornato su E adesso stranamente Con Bitcoin Che stava già scendendo Esce con questo tweet Suicida praticamente Quindi hanno visto Che stava vendendo a altri Perché il prossimo timestre Avrà bisogno Non più di vendere il 10% Ma forse il 20% O il 30% Ok Perché avrà meno soldi dai crediti In più La concorrenza Si sta mangiando Tesla Quindi Molta attenzione Anzi andiamo a vedere Il grafico Il daily di Tesla Perché Per farvi capire Che qua ci sono dei problemi In vista Ok Questi sono i massimi Qua è cresciuto tantissimo Ma Stiamo per andare a toccare I nuovi minimi Di periodo Di Tesla Con i dati Gonfiati Ad hoc In più È uscito con la notizia Che non farà La nuova fabbrica In Cina Insomma Il sogno di Tesla È un po' Si sta un po' Svanendo Però niente Allora Al pazzo di Elon Musk Esce con questo tweet Che non ha veramente Nessun senso Appunto Cioè Che lui capisca Solo adesso Che Il mining Possa inquinare Soprattutto se Si fa mining Con Tanti fanno mining Con energia rinnovabile Quindi non è un problema Altri lo fanno anche In paesi dove usano Il carbone E quindi Niente Ha capito questa cosa E ha dovuto Twittarlo Quindi panico A non finire Probabilmente Anche dovuto a lui Che stava vendendo Altri Bitcoin Che ne dovrà vendere Non nel 10 Ma forse il 20 O il 30 Per il prossimo Trimestre E niente Questo è l'effetto Adesso sta recuperando E Andiamo a vedere Ecco Andasse a testare La 60 E poi tornasse su Questo è un ottimo Ingresso Se ce la fa Sul 30 minuti Siamo ancora Molto distanti Per questo che Se dovesse andare a rompere Qua abbiamo tanto spazio Prima di andare La vera resistenza Che è quella Del 60 Questo è col time frame A 30 minuti Questo che Lo trovo interessante Vedremo Se ce la potrà fare Quindi Torniamo al daily Allora Ovviamente Questo crollo Ha portato giù Tantissime cose E poi Ci sono quelli Che sono scesi meno Tipo BNB Ma comunque Sono scesi E Vabbè non male Il grafico È questo Andiamo a vedere 5 minuti Per vedere Il crollo Ecco Spike Questa è Una candela Di 5 minuti Quindi praticamente È Una mega candela Di panico Dovote gli stop Quindi qua Si è preso Tutti gli stop Che chiunque Abbia avuto Anche perché Quando vai Poi A toccare Allora Uno può tenere Gli stop Più larghi possibili Ma se va addirittura Quando inizia A andare sotto qua Ovviamente Crolla Ma quando addirittura Va sotto anche L'ombra C'è poco da fare Lì Anche se vuoi star largo Con lo stop Almeno Almeno qua Lo devi mettere Quindi qua Chiunque avesse avuto Uno stop È andato a chiudere Quindi il panico totale Adesso Si va a Richiudere un po' il gap Il bello di questi Crolli è che dopo Le medie mobili Sono molti in alto Quindi ha tanto spazio Per poter recuperare Ok Puoi ricaricare Eventualmente Per poi effettivamente Andare a fare I nuovi minimi Quindi Adesso vediamo Oggi è una giornata così A tenere sott'occhio Potrebbe essere una giornata di recupero Perché questa roba È panico Ok Quindi quando si consolida Però dopo ci sono le resistenze Quindi questo Come siamo abituati Potrebbe anche addirittura Andare a toccare la 60 E poi dopo Tornare a scendere Però un passo alla volta Insomma Per adesso Bruttissimo segnale Nuovi minimi Di periodo Quindi Alla 5 Alla 5 Ok Però stiamo parlando Di rimbalzi Quindi Non Non ci aspettiamo Che poi Fra tre giorni Sia di nuovo Qua sopra Bitcoin può fare tutto Però insomma Quando ha fatto Questi crolli qua Ha sempre fatto Comunque Dei recuperi Abbastanza importanti Ok Ogni volta che ha crollato Poi ha recuperato Vedi anche qua Quando ha crollato Ha recuperato Talmente tanto Che poi è andato A sfiorare La 10 Qua Crollato Ha fatto uno ai minimi Poi è andato addirittura Sulla 60 Quindi qua Ha fatto un mega crollo Si potrebbe arrivare Anche a sfiorare La 10 E la 5 Vedremo Dunque Fate attenzione E Elon Musk Insomma Speriamo che L'orario di cena Beva un po' meno alcol E inizia a fare qualche tweet Un po' più Sensato Perché c'è tanta gente Che Se andate a leggere Commenti Nei forum C'è gente che vende casa Per comprare Incredibile E che Ovviamente Non bisogna mai mettere Tutti i soldi Anche per chi Valonchi E cassettista Non metti mai Tutti i soldi In una cosa sola Però Sai Molti si fanno fregare Perché pensano Che Elon Musk Insomma Sia una specie di Dio Scese in terra Qualsiasi cosa Tocchi Diventa oro E quindi Quando hanno visto Che lui è entrato Cioè c'è gente che Che è entrato nel mondo crypto C'è gente che davvero Ha venduto a casa Per comprare Bitcoin Se poi Se poi questa roba Non regge più È un casino Per questi signori Ok Non scherzate Su Su queste cose Ok Quindi Veloce analisi Del crollo Del mega crollo Di questa notte Mega crollo Di panico Cioè vi ripeto Io sono toletto qua Che stava a testa Il post su telegram Era Testiamo nuovamente La 60 Poi Fum Sì Sicuramente È un crollo Velocissimo Va bene Ciao Tredus